Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, lunedì 11 luglio comincia una nuova settimana con gli impegni di lavoro, magari qualcuno che va a scuola o all'università si sta riposando invece, inizia una settimana che ci porterà giovedì 14 alla seconda fase della stagione 2. Questi ultimi giorni, queste ultime settimane non sono state certo ricche di novità per il football 2022, e ve l'ho detto, secondo me la luna di miele tra Konami e la community, almeno quella a cui piace il Dream Team, è terminata con la fase 1 della stagione 1. Speriamo che qualcosa cambi, ma secondo me è molto più probabile oramai che i contenuti corposi arriveranno con la stagione 3, ovvero ad agosto, però spero di sbagliarmi. Andiamo un po' a vedere oggi quali sono le novità, dovrebbero essersi dei giocatori in evidenza di una squadra spagnola, l'Atletico Madrid, perché l'ho anticipato per Master e per Sub, ma vediamo in dettaglio, diamo sempre un'occhiata se ad esempio sono tornati gli eventi con squadre reali, vediamo l'offline, anche se anche lì oramai le speranze sono sempre più vane, e poi vedo sempre il promemoria dell'accordo al buio del Real Madrid. Oggi ne giriamo due, perché ieri abbiamo visto la versione PC, quindi quella PlayStation non l'avevo girata. ecco qui, ci prendiamo il tutto, allora, Authentic Team, niente, niente di niente, offline, le solite 9 squadre, non sia mai che cambi nulla. Allora, andiamo a vedere gli eventi, eccoci, c'è ancora il Championship Open, ovviamente, lo starter, vabbè, l'abbiamo finito da poco, ecco, c'è un European Masters Cup che è esattamente uguale a quella della settimana scorsa. Vabbè, dopo non posso criticare Konami, se no mi dite che sono un criticone di Konami, qualcuno ha scritto questo ieri, perché secondo me è un paradosso che Konami non sfrutti sin dal day one le licenze, ma vabbè, comunque, 2000 GP e 1000 punti ESP, 2000 GP e 1000 punti ESP, 3000 GP e 1000 punti ESP, 3000 GP e 1000 punti ESP, 5000 GP e 1000 punti ESP, 3000 punti ESP si fanno abbastanza semplicemente e comunque è la coppa solita che abbiamo visto la settimana scorsa con i bonus, penso, delle squadre, sì, no, scusate, queste sono le squadre dell'Europa League, puoi ricevere bonus aggiungendo giocatori delle seguenti squadre al tuo schema di gioco, io di queste squadre non ho quasi nessun giocatore, perché me li sono dati via, ma comunque non importa. Worldwide Clubs è quella che continua, quindi andiamo a vedere oltre, andiamo a vedere i contratti. E qui ci sono le cose che conosciamo bene, i giocatori della J League, i giocatori dell'Europa League, i giocatori della Champions League, questi li conosciamo e finiscono tutti tra due giorni, quindi come minimo giovedì almeno speriamo che ci siano novità a livello di contratto mirato, già sarebbe qualcosa. Ecco i giocatori dell'Atletico Madrid in evidenza, li conoscevamo, li abbiamo visti proprio da Pesmaster, vediamo che qui Oblak ha un contrattacco già pronto a 80, contro video veloce 77, passaggio lungo 71, via le terrelle di 70 e 70, e i parametri portiere sono tra l'80 e l'85, con 6 livelli di crescita. Scendiamo su Koke, anche lui ha valori simili per quanto riguarda stile gioco di squadra, 80, contro video veloce 72 e tutto il resto 70, il suo pezzo forte sono i passaggi della sua terra 87, con 7 livelli di crescita, su Arez, per lui si parla anche di Monza negli ultimi giorni, contrattacco 80, tutti gli altri 70, finalizzazione parte da 87, comportamento offensivo 85, aggressività 84, potenzi di 83, 6 livelli di crescita. Marcos Llorente, giocatore piace a tantissimi, contrattacco 80, tutti gli altri 70, velocità e resistenza 85, coinvolgimento difensivo 82 e 7 livelli di crescita. Renan Lodi è un terzino sinistro, 6 livelli di crescita, 80 e contrattacco 70 in tutti gli altri livelli, lui ha un 85 in resistenza, accelerazione 84, controllo corpo 84, velocità 80, dribbling, possesso stretto, passaggio alto 82, poi scendiamo a Carrasco, centrocampista laterale sinistro 89, 7 livelli di crescita, come gli altri 80 in contrattacco, tutti gli altri 70, dribbling 89, controllo ballo 83, velocità accelerazione 82, potenza di tiro 80, 80, 7 livelli di crescita. De Paul 88, 7 livelli di crescita, anche lui contrattacco 80, tutti gli altri parametri, 70, resistenza 82, potenza di tiro 81, accelerazione 80, e poi tanti 82 in controllo palla, dribbling e possesso stretto, passaggio alto e tiragiro 81. Infine, Reinildo 85, anche lui 7 livelli di crescita, quindi diciamo che sicuramente l'ha pescato peggiore, perché poi è un 3 stelle, tra l'altro non l'avevo notato, contrattacco 80, tutti gli altri 70, velocità 84 e nient'altro, onestamente da segnalare, resistenza e accelerazione 79, ma sotto gli 80. Questo ragazzi è quanto, c'è davvero poco, voglio andare a vedere gli obiettivi, ma non credo che ci siano novità, qui gli obiettivi, vorrei vedere quando finivano questi, questi finiscono fra due giorni, quindi giovedì speriamo che arrivi un aggiornamento più corposo, qui vabbè sono gli obiettivi soliti, quando mi mancano i regolari, li ho finiti, anche questi si vorrebbero rinnovare con la nuova fase del campionato, ragazzi mi rimane solo di fare i due giri gratis per il Real Madrid e domani arriva l'ultimo giro gratis, eccolo qui, lista giocatori speciali, facciamo questi due giri in giretti, no l'Atletico Madrid, non lo giro, non ci sono giocatori che mi interessano, andiamo, primo giro. di che spagnola, oh e 5 stelle, bene, sarà un giocatore del Real Madrid, Carvajal, eh ce l'ho già a Carvajal, un terzino offensivo che sostanzialmente mi serve poco in questo momento per il modo di giocare, eccolo qui, e vabbè me lo darò via, almeno mi da un bel po' di punti ESP e preparatori, anzi potete darmi via l'altro, che questo sta buono in contropiede veloce, ha 31 livelli di crescita, certo mi perdo tutto il resto, ma livellandolo se un giorno lo voglio riutilizzare, lo posso livellare bene per il contropiede veloce, va bene, quindi un'ottima pescata comunque. gratis, andiamo, ingaggiamo, secondo giro, meglio delle precedenti, Gulligan, 3 stelle, ecco, torniamo al classico, Gelson, Gelson Martin, e anche lui parte all'istante lo svinco, e va bene ragazzi, questo è quanto, sempre aggiornamenti davvero ridotti all'osso, qualcuno magari interessa in giocatori del 3 di con Madrid e quindi è interessato, io avrei sempre sperato un po' in meglio, comunque io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio se vorrete iscrivervi al canale ancora non l'avete fatto, se vorrete abbonarvi non ancora non l'avete fatto, se volete fare un'offerta unica al canale cliccando sul tastino grazie che trovate sotto ogni video, vi ringrazio se vorrete fare acquisti su Amazon passando per il link e affiliazione presente all'inizio della descrizione del video, a voi non costa un centesimo in più rispetto che fare acquisti diretti su Amazon, ma in questa maniera ci supportate perché una piccolissima, davvero piccolissima, una percentuale ha una cifra per essere chiaro, il vostro acquisto va al nostro canale e vi assicuro ce n'è bisogno perché devo occuparmi non solo di questo canale, di tantissime altre cose, se magari il canale crescesse potrei occuparmi ancora di più del canale, ma va bene così, se però fate acquisti su Amazon passando per quel link, ci aiutate davvero tanto. Buona settimana, speriamo che giovedì arrivino contenuti più corposi, buoni football e buon tutto. Ciao!